Che lo smeriglio sia con voi e con il vostro spirito. Il rumore di zin zin si deve sentire da lontano che proviene come sottofondo a quello che sto per leggervi. Quindi è zin 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 zin, attenzione, abbiate un attimo di pazienza. Allora, sabato 2 e domenica 3 a Sestola, nell'Apenino, si terrà l'evento formativo esperenziale, che anche questa è una parola fantastica, dedicato al forest bathing. Vuol dire l'immersione nella foresta, nel vivere. Forest bathing è il termine internazionale riconosciuto di un'attività multidisciplinare, multisensoriale e multivalente. Allora, il forest bathing è un'attività psicofisica svolta in foresta che porta moltissimi benefici. Si potrebbe dire che è uno stile di vita naturale che dà valore alla nostra relazione con noi stessi. Il termine è la traduzione anglofona di Shirin Yoku che esprime il godere appieno dei benefici dell'atmosfera della foresta. e se la chiamavano godere della foresta. Non era più bello? Godi la foresta, no? Forest bathing. Con la faccia un po' così, anche così. Evento formativo esperenziale. Esperenziale! Poi, dove ti trovi? Nella comfort zone. Allora, comfort zone, sei in salvo e in controllo. Poi, fear zone. Perdi l'autostima, cerchi sempre scuse, ti lasci influenzare. E poi c'è la learning zone che affronta i problemi e i cambiamenti, acquisisci nuove skills. Nuove skill. Sono fantastici skill. Acquisisci nuove skill. Sentite intanto lo zin zin che arriva da lontanissimo. Zin 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 zin. E poi ingrandisci la tua comfort zone, nella learning zone. E infine la growth zone. Growth zone. Fissi i nuovi obiettivi, conquisti gli obiettivi, vivi i tuoi sogni. Trovi un nuovo scopo. Quello di farti arrivare degli zin 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 sui maroni e segarteli a mezzo, ma tagliati a fette grosse stavolta e date col prosciutto e melone. Ecco. l'autostima del broco. Alpraccio.